Sì, sono percorsi, cammini che passano anche dalla sofferenza. Noi oggi, il secondo tempo, non so come l'avete vista voi, ma ne abbiamo avuta. Non che, credo che Raffaele non abbia fatto neanche una parata, neanche una. Però la sensazione che potesse risuccedere qualcosa di non bello, tipo il Foligno, io ce l'avevo avuta. E quindi il fatto che non sia successo, credo che debba aumentare sicuramente l'autostima e la maturità di questa squadra. Perché è ovvio che, senza voler dire qual è il migliore dei calci, perché non credo che ci sia un calcio migliore di un altro, contano solo ed esclusivamente risultati, è naturale che era una squadra che negli ultimi otto mesi era abituata a giocare in maniera totalmente diversa e che in tre allenamenti con Sonny fosse arrivato e avesse la bacchetta magica. Insomma, ce l'aveva quando giocava, è ovvio che ancora è un allenatore giovane, poi non credo che la bacchetta magica ce l'abbia nessuno. Quindi bisognava lavorare, bisognava che i ragazzi acquisissero quelli che sono le sue metodologie di lavoro. Il gruppo è sano, si è messo a completa disposizione del mister, come peraltro aveva fatto anche con Malotti, quindi da questo punto di vista sono dei professionisti a tutti gli effetti. E quindi credo che questo nuovo cammino ci possa portare delle soddisfazioni. probabilmente a livello di spettacolo abbiamo giocato meglio domenica a Gavorrano, questo credo che sia fuori di dubbio, però credo che in questo campionato ogni partita abbia la sua storia e quindi il fatto che il Grosseto sia riuscito a portare via tre punti fondamentali dopo un ottimo primo tempo, anche questo non so se avete avuto la mia stessa impressione, ecco, credo che sia una bella domenica per tutti. Allora, per quanto riguarda Fezzanese e Sandonato, direi che non bisogna assolutamente abbassare la guardia, la Fezzanese la conosco meno, ne approfitterò questa settimana, poi l'importante è che la conosca con Sonni. anche oggi, nonostante in classifica sia un pochino attardata, stava vincendo fino a metà al secondo tempo in casa dell'Ostiamare che tra le mura amiche ha un ruolino invidiabile, quindi bisognerà porre la massima attenzione. Non dimentichiamo che stava vincendo il 9 contro il Livorno la seconda giornata di campionato, quindi pensare di andare a fare una passeggiata a Serravezza sarebbe un errore gravissimo e il Grosseto gli errori ne ha commessi già talmente tanti che purtroppo non se lo può più permettere. La seconda trasferta contro una squadra che anche ci segue in classifica, mi sembra che abbia trovato la quadra, poi l'allenatore lo conosciamo, lo conoscete bene, lo conosco più io, abbiamo fatto la pace per la terza, quarta volta perché litighiamo tutte le volte che lo esonero, a parte gli scherzi, è una persona intelligente quindi riusciamo bene a separare il lavoro dall'amicizia, quindi massima attenzione perché è una buona squadra, mi sembra che avessero delle difficoltà non tanto in fase difensiva ma a livello realizzativo e mi pare che nelle ultime giornate questo problema lo abbiano risolto, quindi affrontiamo due trasferte nelle quali il Grosseto dovrà cercare di far valere, spero, il maggior tasso tecnico, mi auguro che questo sia chiaro, poi sarà il campo che ci confermerà o ci smentirà questa cosa. Per quanto riguarda il mercato, io direi che con il mercato sempre aperto abbiamo fatto questi tre innesti, Caponi, Criso, Vergis e Dierna, che ritenevamo fossero delle lacune per quanto riguarda l'organico, io penso che probabilmente ci saranno da fare più operazioni in uscita che operazioni in entrata, la squadra credo che sia quasi completa, se si parla sempre del solito vice Marzierli, ormai è diventata quasi una consuetudine a queste latitudini, io credo che, e poi deciderà Consonni, se ne deve giocare uno fra Marzierli e Benucci, mi sembra che specialmente nelle ultime settimane Massimiliano stia dimostrando di essere un calciatore importante, non che prima non lo avesse fatto, perché è un vero professionista, si allena sempre con grande intensità, è naturale che per gli attaccanti e quando viene anche il gol poi aumenta l'entusiasmo e quindi sicuramente c'è la possibilità di essere un pochino più sereni. Se dovesse mancare Guerrini, Macchi torna nella sua corsia di piede favorevole, c'è Falasca che è un mancino naturale, è naturale per non ripetere due volte lo stesso termine che Falasca io credo che sia un ragazzo molto interessante, e questo ve lo dico se vi capita di venire a vedere qualche allenamento, credo che sia un 2006 che non tutte le squadre di questo girone hanno, anche fra i titolari. È ovvio che è un pochino più chiuso dal fatto che Guerrini sta facendo un cammino da veterano e quindi probabilmente lo spazio è un pochino relativo, dovuto al fatto anche che Macchi sulla fascia sinistra gioca probabilmente quasi come se fosse un destro, poi abbiamo deciso di prendere un mancino puro come Creso Vergis, quindi è ovvio che probabilmente sono d'accordo con te nella batteria del 2006, un inserimento che possa affiancare Guerrini e Falasca, probabilmente nel mercato di gennaio cercheremo di farlo. Sono fra l'altro Violante è un ragazzo che lo scorso anno ha debuttato, ha debuttato bene, ha fatto un Euro goal contro il Real Forte Querceta, anche essendo attenzionato da procuratori, da qualche squadra professionistica, lo stesso Friscuolo, nonostante credo non abbia debuttato, non ricordo, nel Follonica-Gavorrano, è un calciatore scuola Empoli, io l'ho venduto da piccolino a Gavorrano, all'Empoli, dove ha fatto tutta la trafila del settore giovanile. Probabilmente possiamo anche averli in casa, io dico che noi guardiamo tutto, poi se uno pensa che lo facciamo anche con competenza o meno, questo non spetta a me a dirlo, perché sennò sarebbe troppo facile sospendere il giudizio altrui. Per quanto riguarda il 2006, è il campo secondo me che parla, quindi se i ragazzi dimostreranno come nella scorsa stagione di meritare una chance e di poter stare nella rosa del grosseto, per noi sarebbe sicuramente un dispendio minore sia a livello di energie che a livello economico, e quello poi però il giudice supremo è sempre il campo.